Musica E' bello a tutti ragazzi, oggi è iFlex che vi parla Ed oggi siamo tornati in una nuova challenge Sul minigame o battaglia, suggerite me ne altre voi sotto nei commenti Che li farò nei prossimi episodi Allora in questa challenge, suggerita dal grandissimo costrarch Dovrete il canale in descrizione Dobbiamo togliere tutti i partecipanti L'interfaccia e la mano Quindi non si verrà praticamente nulla Quindi prima che inizia la partita Togliamola tutta insieme, mostra l'interfaccia e mostra mano Quindi non vediamo praticamente niente Neanche quanti secondi mancano per iniziare e cose del genere Però per fare questa challenge dobbiamo avere la partecipazione di tutti i partecipanti Cioè dovrebbero farlo tutti Io già so che ci sarà quello che città e non lo fa No, se vuoi domandolo lo screening, non vedo niente Cioè io sono Comunque ci hanno i compagni di Cosignart Lollo, DarkFelix e Dandy, Edee Ma se ne avendo, se ne avendo, se ne avendo No, mi hai scappato Dai, raga Oddio, ho tirato una freccia senza vedere niente Ma è se mappa c'è una cassa o le cose devono trovare per terra No, ma sei imbarazzante Oh, Lollo ti ho preso con l'Arc, non vedo neanche l'interfaccia Per me sei imbarazzante Eh, sembrano tipo i film Per me sei imbarazzante Dai, eh, muori, non muori più questo Guarda, Lollo, là che si suicida Non muore se fosse salti che cazzo Eh, mamma mia, finalmente Che cavolina Perbacco Perbacco, ragazzi Perbacco 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 E' appunto, questa è una cosa brutta Ma la cosa brutta è che non sai, sono gli oggetti Allora, nel dubbio, ragazzi, mangiamo Ah, sì, devi mettere tutte le persone per se perdere Eh, aiuto No, io questo non sapevo Ti cibaccolino Aaaaaaah No, dai, non ti dillo, faccio bravo, dai Si è baggato No, dai, mi si è baggato Dai, oh, feno Eh, niente, sto facendo Dai, oh, non rompe, se mi chiedi, ti blocco Ti blocchi Ti doro quell'amicizia Eh, ti blocco prima io No, cos'è, che c'hai i piedini in diamante Vedi qua, voi li tuoi piedini Come ti permette andare? No, 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 dai, ti lo chiedi Eh, eh, quello non lo chiedi Eh, l'altro non lo chiedi No, non lo chiedi Sono baggato Te lo dò, non lo chiedi Non lo chiedi Vieni, no Guarda, tutte quelle pozioni Eh, io ti dico, che ti dico Guarda, mi minaccio con le pozioni del danno Eh, dai, che cosa è questa Dammi le frecce, dammi le frecce Mi servono Eppure la metteria in cedena spada So caduto Penso dove però so caduto Per me da andist a città Ma no, ma quando E cos'hai una spada questa No, me l'ho cittato forse Non lo so Non ho capito più niente Vabbè Non so quando ti dò Però penso poca Presume Cos'è che è morto di fare? No, no Non c'è Ci sono anche per me Non c'è No, ma non c'è No, dico, ragazze ogni tanto la costoletta di carne ce la mangiamo Che perché non sappiamo niente Allora Panderi robu Panderi robu E tu un tanto piglio un altro Pianito Interfaccia, quattro No, no Pai secondo me Dandici all'interfaccia faccia a voi non lo so che non c'è la direttata non c'è un'altra cosa che fa x di cattiveria mamma mia ragazza insomma gattiveria dopo forte questo ragazzo ma è vinto solo perché lo fa la tua parte ma è stato di essere il primo verso la becci non fa niente nessun sentito rinforzamento dc se intanto non lo parla di video di staranno e non bene queste sono dettagli l'olio se ti devi segare lo fai dopo il video non roma ragazzi se è un buono non lo vediamo comunque ragazzi per questo video e tutti iscrivetevi sotto nei commenti delle altre challenge da virgolette da fare nei prossimi episodi di questa serie e niente ragazzi vi ricordo di lasciare un like un commento iscrivetevi al canale da iflex e tutto bella 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 portatella ciao ciao